Allora, siamo già pronti, mentre vi ricordo ancora il cd caldo, pronto per voi tra pochi minuti. Partiamo con il rotto freestyle Michael Cecchini. Giuria, attenzione, giuria, non ci possiamo distrarre dalle belle ragazze che salutiamo. Allora, il rotto freestyle è semplicemente la libertà assoluta di fare quello che si vuole. Cantare, ballare, si può respirare tra un rotto e l'altro. Silenzio! Ok, io non ho preparato un numero, però volevo chiamare sul palco i quattro genitori. Di prima, per vedere se hanno le palle. Venite! Bravo, molto impiettivo il rotto. Intanto Cecchini all'esordio ha dimostrato comunque di avere un bello stomaco. E sicuramente l'anno prossimo arriverà ancora più allenato. Allora, abbiamo in microfono anche la giuria della critica. Altiamo, 18 più 14, 32. Bravissimo Cecchini, andiamo avanti, Andrea Benesso. Allora, siamo già pronti. Mentre vi ricordo ancora il cd caldo, pronto per voi tra pochi minuti. Rutto libero, rutto libero, rutto libero. Partiamo con il rotto freestyle, Michael Cecchini. Giuria, attenzione, giuria. Non ci facciamo distrazione dalla ragazza che salutiamo. Allora, il rotto freestyle è semplicemente la libertà assoluta di fare quello che si vuole. Cioè, cantare, ballare, si può respirare tra un rotto e l'altro. Silenzio. Silenzio. Ok, io non ho preparato un numero. Però, volevo chiamare sul palco i quattro genitori di prima. Per vedere se hanno le palle. Venite. Luca! Bravo, molto impiativo il rutto. Intanto Cecchini all'esordio ha dimostrato comunque di avere un bello stomaco. E sicuramente l'anno prossimo arriverà ancora più allenato. Allora, abbiamo in microfono anche la giuria della critica. Altiamo, 18 più 14, 32. Bravissimo Cecchini, andiamo avanti, Andrea Benesso. Grazie. Grazie.